per questa ricetta serviranno due melanzane di media grandezza 200 grammi di besciamella 50 grammi di parmigiano grattugiato una mozzarella tagliata a fette basilico e prezzemolo tritato finemente olio evo quanto basta sale e pepe quanto bastano ho lavato per bene le melanzane spunto e taglio a fette spesse circa mezzo centimetro posiziono le fette sulla griglia in ghisa cospargo con un pizzico di sale lascio grigliare da entrambi i lati metto nella besciamella una presa di sale e pepe quanto basta amalgamo bene il tutto e ora assemblo la parmigiana metto un po di besciamella sul fondo della padella posiziono le fette di melanzane grigliate su ogni fetta ancora un pochino di besciamella parmigiano e una manciata di prezzemolo e basilico proseguo con l'altro strato di melanzane besciamella una generosa manciata di parmigiano grattugiato mozzarella a fette prezzemolo e basilico tritato finemente e per finire un filino di olio lascio cuocere il tutto coperto con il coperchio a fiamma bassa per circa 15 20 minuti questa parmigiana bianca di melanzane è gustosa e saporita è pronta in pochissimi minuti provatela e fatemi sapere noi come sempre ci vediamo prestissimo con una nuova e golosa ricetta a presto amici a presto amici